Ciao a tutti e benvenuti al Masterclass di PowerPivot. Allora, oggi andremo a vedere che cos'è una PowerPivot, che cos'è una tabella piatta e che cos'è un cubo di dati OLAP. Allora, PowerPivot è un motore di elaborazione dei dati, un motore di analisi. Come Power Query, che è un motore che ci permette di importare le fonti esterne e poi di trasformarle, da Power Query quando abbiamo finito quel passaggio là si passano i dati a PowerPivot, così andiamo a modellare il dato, a preparare tutti i calcoli che ci servono per andare a fare un'analisi del dato poi su Excel fatta e finita. Allora, qui c'è il menu PowerPivot, vedete? Per attivarlo, se non ce l'avete, si fa così, menu file, opzioni, se avete versioni 2016-2013 dovete fare componenti aggiuntivi, qui fate aggiungi componenti com, il bottone vai e poi qui compare PowerPivot. Attivandolo qui, facendo OK, compare il menu PowerPivot. Se siete con la versione 2019 oppure Microsoft 365, opzioni, basta andare nel menu dati e attivare questo flag qua, così lui attiva tutto in automatico. Dato che ci siete, attivate anche questo flag qua, disabilita il regruppamento automatico delle colonne. Se questo flag è disattivato, poi lo vedremo più avanti nelle lezioni successive, PowerPivot ogni tanto quando tirate giù un campo data vi crea delle dimensioni nuove in automatico, a me è una cosa che dà molto fastidio, quindi disattivatelo subito così non ci pensate più. Vediamo l'OK. Ecco che è comparso questo bel menu, che ci dà accesso attraverso il bottone gestisci al motore di PowerPivot. Quindi PowerPivot è un motore di analisi e è strutturato per gestire un cubo OLAP. Allora, per concludere su che cos'è PowerPivot, appunto qui vedete abbiamo un menu, ok, che ci permette di importare i dati all'interno di se stesso e Progetto ci permette di fare delle funzioni. Quindi qui non possiamo fare nessun tipo di trasformazione, non possiamo modificare i dati all'interno di PowerPivot, non si possono proprio modificare. Se dobbiamo modificare i dati dobbiamo andare su un database oppure comunque utilizzare Power Query o il classico Excel. PowerPivot ci permette di gestire milioni e milioni di record. Io ho fatto un test con PowerPivot e sono arrivato a 400-500 milioni, quindi se dovete gestire tanti dati usate assolutamente PowerPivot. Un'altra cosa importante, PowerPivot è uno strumento che comprime il dato, perché non è un database relazionale come ad esempio lo è Microsoft Access oppure anche come ragiona l'Excel quando andate ad esempio qui vedete ci sono due tabelline, poi qui fate un cerchio verticale, ok. Comunque la logica di ricerca è relazionale, quindi io cerco un valore qua, poi vado a cercarlo da un'altra parte, anche con Access ad esempio facciamo la chiave tra questi due campi qua, ok, mi tiro giù questa informazione qua e lavora con un tipo di motore relazionale, ok. PowerPivot lavora con un tipo OLAP, ok. Il motore relazionale OLTP. Il motore di PowerPivot è OLAP. Difatti qui se andiamo a vedere la dimensione del database, vedete qui dicono che il motore relazionale riesce a gestire dai 100 MB a qualche giga di dati. Invece PowerPivot va dai 100 GB ai terra. Poi questo non lo fate ovviamente con Excel, ci vogliono altri strumenti dietro che usano sempre il motore di PowerPivot e si chiama Analysis Service. Però appunto con Excel che potete usare all'interno di un singolo foglio al massimo un milione di record, con PowerPivot un milione di record sono l'antipasto. Quindi se dovete gestire tanti record, PowerPivot è sicuramente lo strumento ideale. Un'altra cosa molto importante è... Vado su un altro file, andiamo su questo. Quando voi relazionate tutte le tabelle tra loro, ok, ipotizziamo che ne potremmo avere una sola, la classica tabella, e dopo noi andiamo a fare tutte le nostre pivoti grafici sulla tabella finita che abbiamo, quindi io la chiamo tabella piatta, ok, dove abbiamo un singolo elemento per lavorare. Ma può essere che abbiamo più informazioni, abbiamo la tabella del venduto, abbiamo la tabella dell'anagrafico e così via. Quindi bisogna relazionare queste informazioni tra loro, oppure relazionarle su Power Query e fare tutto un tabellone unico in modo che diventi piatto. Lo scopo di PowerPivot è cercare di distinguere queste tabelle, quindi impareremo durante il corso a spaccare queste tabelle in modo da comprimere ulteriormente il dato. Comunque sia, quando siamo qua e magari vedete qui ci sono delle funzioni, ok, queste ipoteticamente potrebbero essere relazionate alle formule di Excel. Quindi se io, ad esempio, qui mi tiro giù una dimensione da questa tabella, ok, queste sono tutte tabelle, mi tiro giù il mese, ad esempio, ok, e poi mi tiro giù una formuletta, mi tiro giù, ad esempio, questa cosa qua. Ecco qua che la misura qui, se avessi fatto con Excel, avrei dovuto fare una formula sulla mia base dati, che in base al contenuto che sta sulla formula di assente, mi tira giù, appunto, il risultato. E cosa succede poi quando io vado a tirare giù, ad esempio, un'altra misura? Quindi, ad esempio, apriamo qua, tiriamo giù l'informazione della week, quindi andiamo ad esplodere il mese. Ecco che tirando giù, vedete, la misura si è autoricalcolata in automatico, basandosi sull'informazione della settimana, quindi non è saltata come potrebbe succedere con Excel. Oltretutto, appunto, queste funzioni qua da scrivere si scrivono con un linguaggio che si chiama DAX, che all'inizio potreste fare fatica un po' a entrare nella mentalità, perché scardina un po' la logica classica di apprendimento di qualsiasi tipo di script, però una volta che ci entrate diventano molto più semplici anche da gestire. Ad esempio, per fare una formula che fate con PowerPivot dovete tendenzialmente utilizzare le matrici per andare a leggere il contenuto delle informazioni, che sono già molto complesse da leggere e sono difficili da gestire. Invece con il DAX, in pochissimi passi, fate delle formule molto molto potenti. Quindi, comunque sia, anche se gestite pochi record, PowerPivot è comunque uno strumento di analisi veramente molto potente. Uno, comunque, per la comprensione del dato stesso, che arriva, adesso non vorrei sbagliare, ma dovrebbe essere su circa 34 volte, 35 volte, e trasforma il dato come se fosse compresso come uno zip, perché lavora con una metodologia che si chiama A-Cubo. Infatti qui, su un dato su Wikipedia, se volete fare anche un approfondimento, dopo in descrizione ovviamente trovate i link degli approfondimenti, di Kubo.olap, vedete, lui crea un dato praticamente compresso e in più dimensioni. Vedendo un attimino anche cosa dice Microsoft, struttura di dati che aggrega le misure in base ai livelli e alle gerarchie di ogni dimensione che si vuole analizzare. I cubi combinano più dimensioni, ad esempio, ora, geografie, prodotte, eccetera. I cubi non sono cubi in senso strettamente matematico, in senso strettamente matematico, perché non hanno necessariamente lati uguali, tuttavia si tratta di una metafora appropriata per un concetto complesso. Ok, poi qui potete approfondire un po' tutto il sistema di che cos'è un allop e effettivamente come va poi a funzionare sotto. Quindi PowerPivot è sicuramente un ottimo strumento per poter lavorare, per poter andare a fare analisi, per poter andare a fare formule, in modo da bypassare Excel e tutti i suoi limiti anche di velocità. Perché quando fate una formula in DAX il risultato rispetto all'Excel è estremamente, ma veramente, tanto più alto. Cioè è velocissimo, lavora tanto con la RAM e occupa molto, molto poco spazio. Al contrario di Excel che, se fate formule anche complesse, ad esempio immaginate un milione di record, fate un singolo cerchio verticale e piantate il vostro PC. Per fare questa cosa in PowerPivot per lui è sicuramente ancora prima dell'antipasto perché se la mangia in un secondo una formula di quel tipo là. Quindi è veramente uno strumento potente. Giusto per concludere, dopo lo vediamo nelle prossime lezioni, nelle prossime due o tre lezioni, questo ad esempio è un modello di dati che va a comporre il Data Warehouse che vedevamo prima. Quindi qua ci sono le tabelline, vengono relazionate tra loro. Una volta che sono state relazionate vengono create delle formule. Ok, qui vengono create le formule. Poi nel corso impareremo tutte queste cose qua. Queste sono le formule che si creano all'interno di PowerPivot. Quando avete finito questa cosa qua e andate appunto a fare una tabella pivot, quindi inserisci tabella pivot, cosa succede? Si prende il dato dal modello di dati, ok, lì si dà l'ok, e qui compaiono tutte le tabelle che sono già relazionate tra loro e quindi tutti i dati che sono appunto all'interno di tutte queste tabelline qua sono parlanti tra di loro. Ok, e tirando giù i vari oggetti la pivot riesce a leggere in automatico da tutte le tabelline che vedete qua, perché appunto dietro ci sta una relazione. Con Excel fare questa cosa qua è abbastanza complesso. Il concetto molto velocemente per concludere che vi facevo su tabella piatta e cubo di dati AOLAP è che quando intendo tabella piatta per capire se quando noi mettiamo una tabella e la formiamo con dei dati è comunque sia un dato modellato, ok? Quindi quando noi abbiamo una tabella un dato modellato. Quando la mettiamo in Power Pivot, ok? Entra a funzionare col motore di Power Pivot quindi funziona col motore dati AOLAP quindi comunque diventa compresso, diventa veloce possiamo fare delle funzioni, eccetera. Però la vera potenza di Power Pivot è andare a scomporre le informazioni della tabella piatta in modo da ridurre il set di dati. Questa cosa qua poi la vedremo nella lezione 3. Bene, con questa lezione direi che abbiamo visto tutto quindi ci vediamo alla prossima con che cos'è un campo calcolato e che cos'è una misura all'interno di Power Pivot. Vi saluto e alla prossima. Ciao!